Goulam è il su Quarazzichelia. Questo Napoli è il frutto di un grande lavoro di squadra, ma sicuramente uno degli uomini chiave per costruire la macchina perfetta è stato il DS Azzurro Cristiano Giuntoli. Il coraggio di rivoluzionare è la scoperta di fenomeni assoluti, uno su tutti Quarazzichelia. A rivelare un retroscena sull'arrivo del georgiano a Napoli è stato Fauluzi Goulam. Ex terzino del Napoli, ad Azzin. Napoli, le parole di Goulam queste le sue parole. Giuntoli già a ottobre 2021 mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale. Ma costava troppo e stavano facendo scendere il prezzo per poterlo prendere. Anche lo staff e il mister l'avevano già visto. C'era un report di Calzona, l'attuale city della Slovacchia, che già mesi prima l'aveva adocchiato. Ambientarsi nel campionato italiano è davvero difficile, anche Spalletti è stato bravo a inserirlo. Però già sette a otto mesi prima di prenderlo il Napoli era sicuro di lui e delle sue qualità e voleva comprarlo. Virgola.